Nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi parleremo di risarcimento in caso di difetti o vizi di immobili appena acquistati. Sentiamo l'Avvocato Bortolotti. Parliamo dei vizi e delle difformità che possiamo trovare quando abbiamo concluso l'acquisto di un immobile. Anche questo è un argomento abbastanza delicato e di frequente presentazione e credo che sia opportuno che il cittadino, l'acquirente, conosca quella che è la sua reale tutela in queste evenienze. In caso di acquisto di un immobile, di un appartamento nuovo, di recente costruzione o oggetto di totale ristrutturazione, in caso di presentazione di problematiche, soccorre la cosiddetta disciplina dell'appalto privato. Cosa vuol dire? In maniera molto semplice, molto pratica. Se noi riscontriamo dei vizi nel nostro immobile, nel nostro appartamento, di lieve entità e gravità che possono avere a che fare con l'estetica, con la funzionalità di una qualche parte del nostro immobile, abbiamo la possibilità di chiedere l'eliminazione del vizio stesso o la riduzione del prezzo a colui che ce l'ha venduto o costruito, perché ricordiamo che molto spesso l'appaltatore, ossia il costruttore e il venditore sono grossomodo la stessa entità oppure sono comunque sovrapposti e hanno un ruolo parallelo. Nel caso in cui invece si tratti di problematiche che hanno una valenza, una gravità leggermente maggiore, ossia nel caso in cui addirittura l'immobile appaia inadatto all'uso che noi ci eravamo prefissi all'uso abitativo, ovviamente quindi con un livello di gravità ben maggiore, possiamo accedere addirittura alla risoluzione del contratto e a chiedere la restituzione di quello pagato e risarcimento del maggior danno. Attenzione però in tutti e due i casi questo tipo di garanzia non opera se è avvenuta la palese accettazione dell'opera, ossia dell'immobile. Questo cosa vuol dire? Che è avvenuto il cosiddetto collaudo, ma non dobbiamo farci ingannare dal termine perché la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente che io firmi una carta e entri in casa perché si possa dire effettuato o avvenuto con successo il collaudo. L'accettazione dell'opera deve essere un'eventualità, una situazione fattiva che deve avere a che fare con la vita di tutti i giorni, cioè io devo essere entrato nell'appartamento, nell'immobile, devo viverci e devo aver fatto vedere con comportamenti concludenti che ho accettato l'opera così com'è. Nel caso in cui questo è avvenuto verrà meno ovviamente la garanzia nei confronti dell'appaltatore e venditore, cioè io non potrò più sollevare questo tipo di lamentela. Se invece i vizi che poi vengono fuori dopo si potevano definire occulti, cioè un compratore di media diligenza non poteva comunque rendersene conto agevolmente, allora in quel caso la garanzia opererà ancora dal momento in cui il vizio diventa riconoscibile. Ricordiamoci che noi abbiamo in questi casi, molto importante, abbiamo 60 giorni per denunciare la nostra problematica, il nostro vizio, grave o meno grave che sia, all'appaltatore, costruttore, venditore, da quando lo abbiamo scoperto. Non è necessaria una denuncia analitica, non dobbiamo scrivere una diffida descrivendo in maniera tecnica quello che è il problema, ma basta che venga sollevata la problematica all'attenzione del venditore, costruttore. L'azione giudiziale per ottenere la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o risarcimento del danno si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera. Quindi se noi in ogni caso veniamo a scoprire una problematica quando è trascorso questo periodo, non potremo più rivalerci nei confronti del venditore, costruttore. La garanzia che poi tutela gli acquirenti di immobili conosce un versante addirittura migliorativo, proprio perché trattasi di beni destinati per la loro natura a durare nel tempo. Quindi la legge riconosce per gli immobili una garanzia addirittura decennale nel caso in cui si presentino dei gravi difetti a carico dell'immobile che ne possono minare la stabilità, il sereno godimento da parte del proprietario e comunque che facciano rimedialmente venir meno il bene della vita che uno ha acquisito acquistando l'immobile. Quindi nel caso in cui noi scopriamo di avere dei difetti di questa gravità che minano in maniera rilevante la godibilità del bene che abbiamo acquistato, abbiamo dieci anni di garanzia prestataci dal costruttore venditore, da colui che ci ha venduto l'immobile. Ricordiamoci però due aspetti importantissimi, veramente importanti. Dobbiamo fare attenzione che nel momento in cui noi denunceremo il vizio così grave, un esempio classico sono le gravi infiltrazioni d'acqua, l'umidità, le crepe, i problemi strutturali dell'immobile e i gravi problemi di funzionalità di parti dell'immobile, una volta che noi denunceremo questo stato di fatto avremo poi un anno di tempo per iniziare l'azione giudiziale. Se noi dovessimo dimenticarci di questo aspetto e continuare dopo scadenze oltre un anno a diffidare il nostro costruttore, ricordiamoci che saremo fuori tempo, avremo perso l'occasione di portare in tribunale le nostre ragioni perché una volta sollevata la denuncia la prescrizione è annuale per l'azione giudiziale in caso di gravi difetti. Anche in questo caso essendoci questi termini di prescrizione molto rigidi, essendo una materia assolutamente delicata è fondamentale chiedere la consulenza e il consiglio ad un legale prima di iniziare una causa che potrebbe risolversi in un grave danno economico. Parliamo di pignoramenti di pensioni o stipendi. Cosa ci serve sapere per evitare di trovarsi in questa situazione? Noi abbiamo girato la domanda all'Avvocato Pollastro. Sentiamo cosa ci dice. Buona serata. Paolo ha un debito nei confronti di un creditore, il creditore può essere sia un soggetto privato che un'Italia, che una banca o quant'altro, una finanziaria. E a un certo punto questo creditore fa un'operazione prima di decreto ingiuntivo, dopo di precetto e interviene con un pignoramento solo, gli pignora lo stipendio. Mi scrive, ma è giusto? Non è giusto, ho sentito, mi dice, perché lui ha già un'altra cessione del quinto presso una finanziaria che gli era servita per acquistare l'automobile. Allora, il signor Paolo ha già fatto una cessione del quinto e adesso si trova un pignoramento sullo stipendio. E dice, a questo punto io non ho più, mi vengono a portare via di tutto. Mi trovo con uno stipendio che è dimezzato di fatto, quasi. Non è giusto. Attenzione, al tecnico, all'avvocato o comunque quando uno cerca di risolvere un proprio problema, temo che non bisogna parlare di ciò che è giusto o ciò che è ingiusto in linea stratta. Bisogna domandarsi ciò che è legittimo o ciò che è illegittimo. Al tecnico devi chiedere, all'avvocato devi chiedere se questa cosa sta dentro la legge o non sta dentro la legge, perché non è detto che la legge non preveda anche delle cose che consideriamo totalmente ingiuste, sbagliate. E allora bisogna cambiare le leggi. Quando un avvocato dice ma io farei, brutto avvocato, l'avvocato deve dire questa è la norma, non la condivido magari, anzi magari faccio parte di un movimento politico che combatte questa norma. Ma finché c'è al cittadino bisogna dire questa è la regola del gioco. E poi come sono gioco a pallone. A me non mi piace il discorso del fuorigioco, sì ma se finché c'è devi rispettare fuorigioco perché se no ti becchi il fallo contro. Il cittadino deve sapere che il pignoramento sul stipendio può intervenire fino al quinto, cioè il 20% dello stipendio. Ma se uno ha una cessione e se uno ha, non ma, e se uno ha una cessione del quinto, la giurisprudenza dice che quella cessione del quinto è una spesa che tu hai fatto e che non riguarda assolutamente il quinto. Non riguarda assolutamente il quinto. È un po' come se devi pagare le spese del condominio. Non c'entra niente, non c'entra nulla. Per cui è ben vero che alla fine io avrò uno stipendio particolarmente ridotto. Ma la cessione del quinto non è una procedura esecutiva, è una spesa che il cittadino decide di fare. La procedura esecutiva invece è una procedura imposta dal creditore e che quindi impone una, e cui uno è sottoposto. A questo punto ci sono due percorsi da verificare. Se il pignoramento avviene nei confronti dello stipendio prima che il datore di lavoro abbia pagato lo stipendio o se interviene dopo il pagamento. Perché dico questo? Perché se interviene prima, quindi intercetta il pignoramento prima del pagamento, vuol dire che il creditore, o meglio l'avvocato del creditore ha fatto il pignoramento direttamente presso il datore di lavoro, ha pignorato lo stipendio direttamente presso il datore di lavoro, esiste una soglia al di sotto della quale non è possibile pignorare lo stipendio. Perché? È considerato una soglia vitale in grado di garantire i bisogni elementari della persona. La soglia è l'assegno sociale aumentato del 50%, cioè dato che l'assegno sociale quest'anno, adesso poi vedremo all'inizio dell'anno quando l'Inps uscirà con la nuova tabella, ma lo stato attuale è 448,07 moltiplicato per, aumentato nel 50% viene 672,10 Euro. Cioè in uno stipendio lo zoccolo di 672 Euro non è sottoponibile a pignoramento, neppure al quinto, la parte sopra è invece sottoponibile a pignoramento. Altra domanda che spesso il cittadino fa, ma se io ho uno stipendio di 2.000 Euro, ma poi ci pago le tasse e poi ci pago le varie oneri anche la quota che devo pagare per l'Inps e quant'altro. Certo, è giusto, il pignoramento e il quinto viene calcolato sullo stipendio, detratta la parte che va di tasse, Inps, contributi e vari. Per quanto riguarda invece il pignoramento presso la banca, l'istituto di credito, dopo che è già stato accreditato e che quindi riguarda il complesso delle somme che sono accreditate sul conto corrente, la soglia impignorabile è stata identificata nel triplo, cioè praticamente nel doppio di quello che vi ho detto prima, nel triplo dell'assegno sociale, all'ottuale circa poco meno di 1.350 Euro. Grazie. Eccoci giunti al termine di questa puntata. Vi ricordo la nostra mail, avvocati rispondono chiocciolaicomizio.it. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.